Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi, sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI si ricorda che per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!